Più di 20 mamme si sono date appuntamento sulla scalinata di Piazza Duomo per allattare i loro neonati. Un modo per sensibilizzare l'opinione pubblica sui suoi benefici e per sconfiggere definitivamente il tabù dell'allattamento in pubblico. Vorrei far vedere che comunque l'allattamento è una cosa naturale, che la natura ci ha donato e non bisogna vergognarsi, non bisogna avere paura di dimostrare anche quando allattiamo perché è la cosa più naturale del mondo e ai nostri bambini fa solo bene. Le capita spesso di allattare in pubblico? Sì, ovunque, se il supermercato, il parco, ovunque. Le è mai capitato che qualcuno si lamentasse, le lanciasse qualche occhiata? No, anche perché gli proporre di girarsi dall'altra parte, non c'è mica problema. È un piacere? Assolutamente sì, è un contatto continuo con la bambina, un rapporto speciale allattare al seno. Sono qua per fare questo evento di allattamento al seno e per far vedere che è comunque una cosa assolutamente naturale, che anzi è la cosa più bella allattare i propri figli al seno. I dati piacentini sull'allattamento sono tra i migliori in regione. Negli ultimi anni il tasso di allattamento materno è comunque aumentato, cioè progressivamente aumenta. E l'altra questione positiva è che qui a Piacenza noi siamo tra le province con il tasso di allattamento materno a tre mesi e a cinque mesi più alto di tutta la regione. L'allattamento a tre mesi a Piacenza, quindi in tutta la provincia, è il 65% delle donne, quindi allatti in modo esclusivo al seno, mentre in regione è poco al di sotto del 60%, quindi siamo cinque punti più in su. E l'allattamento invece ha cinque mesi, a Piacenza è circa il 50%, mentre in regione è poco più del 40%. Secondo gli studi c'è un forte legame tra allattamento materno e uso di antibiotici. Tra tutti i bambini che sono compresi tra quelli allattati al seno è stato verificato attraverso la banca dati regionale il consumo di antibiotici. Quindi i bambini allattati al seno facevano molto meno uso di antibiotici nel primo anno di vita di quelli che sono allattati artificialmente.